Cari amiche e cari amici, ero incerto se registrare questo video o meno, poi ho deciso di farlo perché veramente la cerimonia della benedizione Urbi e Torbi di ieri, 27 marzo 2020, con la piazza San Pietro Vuota e il compagno Bergoglio lì da solo, oltretutto terrorizzato dal coronavirus, è stato veramente qualcosa di inquietante, che a mio parere di religioso aveva molto poco, perché in genere la religione deve suscitare speranza, senso di comunione, condivisione, invece queste inquadrature, a mio parere hanno destato solamente inquietudine e sono state una sorta di dimostrazione della fine della Chiesa Cattolica, almeno di quella che abbiamo sempre conosciuto. Farò prima un piccolo escursus storico prima di concludere con le mie impressioni. Urbi et orbi, che significa? Questa è una locuzione latina che significa urbi alla città, si intende alla città di Roma, e orbi, quindi et orbi e al mondo. Quindi significa urbi et orbi alla città di Roma e al mondo. Letteralmente sarebbe all'urbe e all'orbe. Questa formula oggi viene utilizzata in alcuni documenti pontifici, ma anche in alcuni messaggi e, come nel caso di ieri, per le benedizioni dirette ai fideli di Roma e del mondo intero, quindi urbi et orbi. Ora, in questo momento di grande difficoltà, di panico, di terrore per il coronavirus, ritrovare il senso della preghiera, il senso anche della comunione cattolico, vi ricordo che significa universale, è qualcosa di molto importante e l'appuntamento quindi di ieri in piazza San Pietro doveva essere un grande momento di comunione soprattutto e di speranza, ma a mio parere così non è stato. Riguardo, tornando alla storia della Chiesa, il Papa è un re a tutti gli effetti e quindi lo stato della Chiesa si forma nell'Italia centrale tra il VI e l'VIII secolo d.C. e dura fino al 1870 alla presa di Roma, i famosi bersaglieri che entrano in porta via. Durante tutti questi secoli i papi hanno esercitato un potere spirituale su tutti i cattolici sparsi in tutto il mondo e un potere temporale. Che vuol dire potere temporale? Vuol dire potere giuridico e amministrativo su quelli che erano i sudditi dello stato della Chiesa, quindi potere spirituale e temporale per le cose dello spirito e per le cose della società, del mondo. I papi vi dicevo ancora oggi il Papa in realtà è un re, è un sovrano e i papi avevano lo stesso potere del re, anzi anche maggiore del re, perché la Chiesa voleva proprio affermare la propria supremazia sia dal punto di vista dello spirito sia riguardo proprio alla materia ecclesiastica in qualsiasi paese, in questo modo limitando anche il potere degli altri monarchi. Vi ricordo che fino al XV secolo, XVI secolo addirittura, gli europei parlavano dell'Europa come la cristianità. Proprio per questo motivo legato al potere, alla supremazia, riguardo anche al potere temporale oltre che spirituale, durante il Medioevo e l'età moderna i papi sono stati protagonisti di molte battaglie e dopo la rivoluzione francese 1789, quindi e successivamente alla discesa di Napoleone in Italia, l'esistenza proprio dello Stato, della Chiesa, soprattutto come potere temporale, fu minacciato in maniera molto molto seria, al punto che nei primi decenni dell'Ottocento le sorti del potere temporale dei papi apparvero segnate. Lo stesso Machiavelli, nel Principe, parlò della Chiesa che aveva sempre mantenuto gli staterelli italiani divisi per ottenere più potere temporale e quindi dai primi decenni dell'Ottocento, vi dicevo, si comprese che un'Italia, per essere unita, necessariamente aveva bisogno di smembrare quello che era lo Stato della Chiesa che a quel tempo attraversava tutta l'Italia centrale e che andava proprio dal Tirreno, dal Mar Tirreno al Mar Adriatico. Data, ve l'accennavo prima, 20 settembre 1870, ecco i primi reparti di bersaglieri del governo italiano entrarono a Roma attraverso la breccia di Portapia. In quel momento finisce il potere temporale dei papi e quindi il potere diviene solamente spirituale. Viene sequestrato il Quirinale che era la residenza del Papa papale durante il periodo estivo, che diventa il Quirinale la residenza del Presidente della Repubblica. E venendo ai nostri giorni, in questo brevissimo escursus storico che spero abbiate gradito, il territorio dello Stato della città del Vaticano è costituito dalla piazza che tutti conosciamo, con la famosa piazza strutturata da Bernini, nel 600, con il famosissimo colonnato, quindi piazza San Pietro, la Basilica di San Pietro e poi i giardini vaticani, i musei vaticani e alcune piazze che adesso non sto a nominarvi che sono adiacente a questi luoghi che vi ho detto. Ma torniamo alla benedizione urbi et orbi, quindi alla città di Roma e al mondo intero. Cattolico, vi ho detto, significa la benedizione universale. La benedizione è impartita dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, ossia dalla finestra che inquadrano quando vedete che il Papa si affaccia sulla piazza. Dopo la perdita del potere temporale, nel 20 settembre 1870, fino al 1921, molti non la sanno questa cosa, anzi la sanno in pochissimi, i Papi non si affacciarono più dalla loggia centrale, che è quella, come vi dicevo, inquadrata dalle televisioni quando il Papa, ad esempio, nell'Angelus Domenicale si affaccia, no? Quella finestra è lì. No, i Papi per protesta dell'annessione di Roma all'Italia, quindi della perdita del potere temporale anche su Roma, si affacciavano su una loggia interna al Vaticano, quindi i fedeli non potevano vedere il Papa che si affacciava. Perché facevano questo? Perché si consideravano prigionieri in Vaticano, proprio perché l'Italia era stata formata e Roma anche era stata annessa. Nel 1922, Pio XI, una volta eletto, tornò a dare la benedizione dalla loggia esterna, quindi ogni gesto che fa il Papa ha una valenza sia simbolica che politica rilevantissima. Quindi il tornare ad affacciarsi di Pio XI nel 1922 sulla piazza San Pietro dalla loggia centrale mostrava simbolicamente ma anche effettivamente la volontà di risolvere risolvere la questione romana e quindi il ruolo che doveva esercitare il Papa nell'ambito anche della città di Roma. Fino a Pio XI, il Papa era accompagnato da due cardinali diaconi, dal maestro delle cerimonie e un altro piccolo gruppetto di accoliti si recava la loggia delle benedizioni sulla sedia gestatoria, la famosa sedia del Papa, che era una sorta di baldacchino portato proprio dalle persone a mano, per capirci quello che avete visto tutti nel film Il Marchese del Grillo, quando il Papa si spostava. Ricordate la scena dove Alberto Sordi fa improvvisamente quasi sprofondare la sedia, la famosa sedia del Papa. E quindi questa sedia gestatoria. E il Papa indossava i paramenti pontificali e il triregno, quindi era molto molto suggestiva con questo grande copricapo e i simboli proprio che gli davano la parvenza veramente di un re. Successivamente, con la democratizzazione della Chiesa, soprattutto dopo il partito del Concilio Vaticano II, i Papi cominciarono a recarsi a piedi, a volte con abiti pontificali, a volte con l'abito corale, che sarebbe il rocchetto, la mazzetta e la stola, fino ad arrivare al compagno Bergoglio, l'antipapa Francesco, che semplifica ulteriormente il cerimoniale, perché vuole essere più popolare del popolo, e si limita a indossare la stola sopra la veste talare per il solo tempo della benedizione. Come sappiamo, lui si rifiuta di inginocchiare, non credendo in Dio davanti al Santissimo. Comunque, dopo i patti lateranensi, altro momento importantissimo, Mussolini, il duce, che stipula i patti lateranensi con il Papa. E quindi via della conciliazione viene costruita in quel tempo, proprio, perché via della conciliazione è quella grande via che vi porta in Piazza San Pietro, fino al 29 era occupata da alcuni antichi palazzi romani, quindi si accedeva su Piazza San Pietro attraverso un dedalo di vicoli strettissimi. E vi dicevo, il duce si riconcilia con il Papa, che vuol dire che lo Stato italiano si riconcilia con la Chiesa Cattolica. Era l'11 febbraio 1929, quando in Piazza, oltre la folla, ad accogliere il Papa, grazie alla riconciliazione tra il duce e la Santa Sede, tra l'Italia e la Santa Sede, oltre la folla c'erano le rappresentanze militari dello Stato della città del Vaticano e dell'Italia, con le rispettive bande dei due Stati. Quella della gendarmeria pontificia, che esegue l'inno nazionale italiano, poi quella dei carabinieri, che esegue l'inno pontificio. Quindi ecco la riconciliazione, in segno anche di omaggio reciproco. Dopo i saluti militari della Guardia Svizzera, un'altra piccola curiosità, questi particolari vestiti a grandi righe della Guardia Svizzera furono disegnati proprio da Michelangelo nel Cinquecento. Dopo i saluti militari della Guardia Svizzera Pontificia e delle forze armate italiane, il Papa pronuncia il messaggio Urbi e Torbi, appunto, alla città e al mondo, e segue la benedizione. Un cerimoniale che si tiene sia nelle ricorrenze di Natale e Pasqua, sia in occasione anche dell'elezione papale, quindi quando c'è un Papa neoeletto. Questa benedizione contiene una formula che fa riferimento alla remissione dei peccati e alla indulgenza, quindi un momento di grande impatto dal punto di vista visivo, dal punto di vista comunicativo e anche dal punto di vista spirituale, in cui ci si sente veramente in comunione. Quindi la Chiesa dimostra di essere realmente cattolica e quindi di avere una valenza universale. E qui vado a concludere con la sensazione veramente orribile che personalmente ho provato nel vedere il compagno Bergoglio, l'attuale falso Papa, impartire la benedizione ieri, 27 marzo 2020, Urbi et Orbi. Un Papa terrorizzato, come ci fa sapere anche Antonio Socci dal coronavirus. Un Papa letteralmente lontano da tutta quella che è stata la dimensione anche simbolica dei Papi, visto che è un Papa che non si inginocchia neanche davanti al Santissimo. Quindi vedere questa inquadratura veramente sembrava, vi ricordate, The Day After, quel film dove c'era la terra dopo l'esplosione della bomba atomica. Ebbè è stata un'esperienza, a mio parere, devastante dal punto di vista spirituale, perché in un mondo già impaurito dal coronavirus e da una pandemia dichiarata ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della della Sanità, vedere un Papa isolato che è lontanissimo da un pubblico che neanche c'era, una piazza vuota. Quindi puoi vedere questa immensa piazza vuota col colonnato del Bernini, i cui bracci, nell'idea di Bernini, dovevano simboleggiare le braccia della Chiesa Cattolica che abbraccia il mondo. E in questo caso c'era solo Bergoglio che non abbracciava assolutamente nessuno. Una piazza vuota, c'era anche la pioggia, una dimensione spettrale, sembrava più un film di zombie che una cerimonia religiosa e purtroppo vedere un Papa che non rappresenta più nessuno se non se stesso e quelli compagni di merende che si sono allontanati totalmente da quella che è la tradizione cattolica. E quindi vedere questo scenario che è la conclusione di anni e anni di infiltrazioni massoniche all'interno della Chiesa è stato qualcosa di inquietante e a per il mio in questo momento anche di devastante. In un momento in cui non solo i cattolici ma anche non cattolici avevano bisogno di una parola di conforto e di speranza in questo momento drammatico Bergoglio con il vuoto della piazza non fa che manifestare il suo personale vuoto interiore di falso Papa e di persona che non è assolutamente in grado di guidare una Chiesa come la Chiesa Cattolica con una immensa storia soprattutto per quanto riguarda la storia d'Occidente ma in fondo nella storia anche di di tutto il mondo e quel vuoto non faceva altro che corrispondere al vuoto interiore del falso Papa e al vuoto che questo Papa ha creato nell'ambito della Chiesa Cattolica. Bene cari amiche e cari amici un pollice su per il mio lavoro sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo